Ciao a tutti e benvenuti. Oggi parliamo di un tema che sta infiammando il dibattito nel calcio italiano. La Lazio e il suo patron Claudio Lotito non si arrendono di fronte agli ultimi episodi arbitrali controversi. Prima di procedere ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Non sono pazzo. Queste parole di Lotito riecheggiano come un eco in un ambiente calcistico pieno di tensioni. Ma cosa si nasconde dietro queste dichiarazioni? Quali potrebbero essere le conseguenze per la Lazio e per il calcio italiano in generale? Il calcio è molto più che passione e emozione. È anche un terreno di controversie e dibattiti. La Lazio, dopo recenti episodi arbitrali, si trova al centro di un'accesa discussione. Le parole di Lotito, evidenziate da Il Messaggero, esprimono una chiara frustrazione e senso di ingiustizia. Il patron della Lazio non esita a fare paragoni con altri episodi nel mondo del calcio, sottolineando le anomalie nel sistema attuale. La questione del rigore su Castellanos è solo l'inizio di un problema più ampio che Lotito crede necessiti di un'attenta riflessione. Oltre alle polemiche, la Lazio affronta le squalifiche di giocatori chiave come Pellegrini, Maruzic e Guendouzi, che oltre i tre punti in meno in classifica restano squalificati per la gara successiva. Lotito non si vuole fermare, chiede un risarcimento economico. E se questo dovesse essere fatto la Juventus e tutte le squadre penalizzate in questo campionato, potrebbero fare la stessa cosa e mandare NN fallimento tutto. E voi cosa ne pensate? La Lazio è giustificata nel sentirsi vittima di ingiustizie? Come dovrebbe reagire il mondo del calcio per assicurare maggiore equità e trasparenza? Condividete la vostra opinione nei commenti. Se credete in un calcio più trasparente e giusto, mostrate il vostro supporto con un like, iscrivendovi al canale e condividendo questo video. La vostra voce è essenziale per evidenziare questioni che spesso non trovano spazio nei media tradizionali. Il calcio dovrebbe rappresentare unicamente gioia e competizione leale. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Lotito C offrono uno spaccato di una realtà più complessa. La Lazio si sta battendo non solo sul campo, ma anche fuori, cercando giustizia e verità. Questa è solo l'inizio di una lotta che potrebbe cambiare molte dinamiche nel calcio italiano.